il dottor mario siracusa anche lui operativo nella terza edizione della breccial fiorata infatti più di 300 quadri a carattere sacro sono stati esposti nella sala parrocchiale per l'occasione trasformata in sala mostra che tanti arrivati dai paesi delle circontarie e non solo hanno potuto ammirare l'attenzione ed il ringraziamento pubblico per il dottor mario siracusa che conserva anche una collezione di francobolli a carattere sacro è arrivato dal sintaco caruso al momento dell'inaugurazione quanto lo ha espressamente ringraziato per aver messo a disposizione tutte le immagini sacre della sua collezione privata e per essersi prese fin anche le ferie per allestire la mostra da sottolineare che il dottor siracusa coltiva questo obbe che fra l'altro la passiona da circa dieci anni sempre alla ricerca certosina in ogni dove di immagini di immagini sacre nell'ambito delle giornate della brecciar fiorata c'è anche da sottolineare che fra i visitatori c'è stato l'arrivo anche del vescovo monsignor mario russotto che si è intrattenuto con i coniugi gianna petronio federico che si sono spesi intensamente soprattutto per l'approntamento e l'appellimento della via san francesco assai rappresentativa trasformandola in un'oasi sacra grazie 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 Siracusa Mario Siracusa mostra di immagine sacre mi viene da dire sono stati tolti dai capezzali delle case di Acquaviva? No, no, non sono di Acquaviva questa è una raccolta che dura da qualche anno ringrazio anzi i tanti amici conoscenti che hanno voluto donarmi qualche ricordo antico provengono da Villalba Valle Lunga, Acquaviva, Bussomeli Campofrango c'è anche qualcosa da Milena e non sono tutti quelli che io posseggo perché la maggior parte dei quadri chiaramente non potevo mettervi anche per una questione di spazio e dovendo dare un numero che numero questi quadri? Credo che di queste dimensioni è già incorniciati circa 300 circa 300 quadri grazie sto parlando al giornalista come oggettistica che vede in parte in quella vetrina e questo è un decimo degli oggetti credo ma forse anche meno degli oggetti della mia collezione e ho raccolto in tutti questi anni questi anni quindi è una iniziativa di quest'anno della la mostra è la prima volta che la facciamo però io li raccolgo da diversi anni parecchie anni in giro per il ho anche una collezione di francobolli a carattere sacro che è veramente internazionale ma che chiaramente non potevo portare qui questa sera è una collezione immensa di immagini sacre di tutte le opere d'arti che sono esposte nei musei d'Europa è un obbio che coltiva da quando? penso una decina d'anni una decina d'anni può salvare questi che sono i vecchi capezzali di una volta perché purtroppo adesso insomma vengono anche rimorsi dalle proprie abitazioni e in parte ho voluto recuperarli alla memoria storica mostra di arti sacre nel sala parrocchiale di Acquaviva Platani in occasione della Percial Fiorana 29 maggio 2016 sieglie spettacom fondamentale regio l'asciutto spirito di con dell' Grazie per la visione!